giovedì 28 febbraio 2019 finisce questo decimo mese insieme su cper tv il tempo vola veramente veloce ne sono successe di cose in questi dieci mesi le celebriamo con un team da tre come di consueto un wedding team al giovedì abbiamo 25 minuti mwrap con 15 oppure 12 calories bike abbiamo 7 box jump 7 power clean scalatura dei pesi come al solito sulla grafica a domani venerdì per l'ultimo della settimana su cper tv